Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi abbiamo una storia particolarmente ispiratrice da condividere con voi, una di quelle storie che lasciano il segno. Parliamo di Giuseppe Guerra, un nome che forse non tutti conoscono ma che ha scritto una pagina indimenticabile nel mondo dell'eredità, un popolare game show che ha visto nascere e cadere molti campioni. Ma Giuseppe non è un campione qualunque. Fin dal suo debutto, ha mostrato un talento fuori dal comune, riuscendo a incassare premi straordinari che hanno catturato l'attenzione di tutti. La sua avventura nel gioco si è conclusa con un monte premi complessivo di 75.000 euro, frutto di due vittorie spettacolari che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. La prima gli ha portato 85.000 euro in gettoni d'oro, e la seconda una somma ancora più cospicua di 90.000 euro. Anche se la sua corsa è terminata il 12 febbraio, l'eco del suo successo risuona ancora tra gli appassionati del programma. Ma ciò che ha veramente colpito il cuore di molti non riguarda i numeri o i premi vinti. Durante i ringraziamenti, al termine di una delle sue vittorie più eclatanti, Giuseppe ha condiviso un momento di profonda intimità e sincerità, rivolgendo un saluto speciale a suo marito. Questo gesto, semplice ma carico di significato, ha sorpreso e commosso il pubblico, dimostrando una volta di più come l'amore possa essere espressione di pura autenticità. In tempi in cui le questioni di orientamento sessuale stanno perdendo il velo di tabù che per lungo tempo le ha avvolte, trovare il coraggio di esprimersi liberamente resta una sfida non da poco.